I costi della politica, gli eccessi e i privilegi dei politici ad ogni livello che tanto e sempre più indignano i cittadini afflitti invece da gravi difficoltà e tormentati dalla mancanza di prospettive. Alla pagina 58 del libro Sicilia, la fabbrica del mito, dello scrittore agrigentino e giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, Matteo Collura, alcune righe cristallizzano la degenerazione della politica, spesso occasione di guadagno e abuso impunito. Matteo Collura scrive, l'individuo che solitamente viene definito mafioso è il rappresentante di una tipologia umana plasmata dalla perdurare di un potere rimasto nei fatti coloniale e resa rapace dall'esercizio della politica intesa come facile occasione di guadagno e di abuso impunito. Per questo a centinaia, a migliaia, i giovani addestrati a una simile mentalità pentano la carta di una qualsivoglia elezione in un qualsivoglia organismo rappresentativo delle istituzioni. Una volta eletti quella sarà la loro occasione di guadagno, la loro vacca da mungere. Per questo la politica è divenuta un lavoro o, per meglio dire, una professione o, per dire ancora meglio, un mestiere è arrivata al suo capolinea. Per questo la Sicilia si trova sul baratro del fallimento economico. Decine di migliaia di individui che possono essere definiti mostri di consumo, forti dei loro voti elettorali, per anni l'hanno spogliata, usata, spremuta, ma ora il banchetto sembra essere giunto alla fine. Dopo tanta polpa ecco che si intravedono le ossa. Che accadrà quando la festa sarà finita?